Voglio condividere alcuni motivi per cui vale la pena mobilitarsi e andare a votare Ferruccio Sansa a queste elezioni regionali. Allo scorso turno, quello che oggi è lo schieramento che sostiene un unico candidato era disperso su tre candidati. Questo vuol dire che se oggi ci mobilitiamo e concentriamo l'energia in questi pochi giorni per convincere tante persone sensibili a questi temi, a questa visione di Liguria, ad andare a votare Sansa, possiamo farcela. Dobbiamo crederci e soprattutto convincere tante persone che vale la pena andare ad esprimere una preferenza su che tipo di Liguria vogliamo nei prossimi cinque anni. Abbiamo un candidato valido, un candidato sincero, appassionato e anche umile, capace di cercare buoni collaboratori e di mettere le migliori energie al servizio di una Liguria nuova, più inclusiva, più accogliente. Una persona che è attenta alle piccole cose, che sa essere anche poetica e fermarsi a guardare la bellezza che abbiamo intorno, perché vale la pena scegliere la Liguria. Ferruccio è una persona che, in quanto giornalista, ha esplorato in tanti modi il territorio, non solo Ligure, e che quindi ha la percezione di cosa vuol dire andare ad incontrare, a conoscere le realtà, indagarle, farle proprie, empatizzare e quindi farsi carico anche dei loro problemi. Non importa se siamo arrivati a questa candidatura in un modo che non ci è piaciuto, troppo in ritardo, con dei passaggi che sono mancati. È andata così, c'era il tempo per discutere, adesso è il tempo di giocare il tutto per tutto in questi ultimi giorni e andare a scommettere su una Liguria che cambi, su una Liguria diversa, che possa essere molto più attrattiva e più accogliente anche per i tanti giovani che a migliaia in questi anni se ne sono andati.